Un saluto particolare a tutte le donne in questa giornata che si dice sia la loro festa, anche se poi la festa della donna dovrebbe essere ogni giorno, però oggi la ricordiamo in modo particolare, quindi io faccio un augurio a tutte le donne di Castellana, faccio un augurio a tutte le donne impegnate che lavorano, che gestiscono una famiglia, che gestiscono dei figli, che lottano ogni giorno, perché la donna ha una forza incredibile e non lo dico perché oggi è la loro festa, ma perché lo penso veramente. Molto spesso le donne hanno dei pesi enormi di cui si caricano e quindi non solo in ambito familiare, nel ambito lavorativo e poi quelle donne che si dedicano alla politica sono, per quanto mi riguarda, particolarmente apprezzabili, perché ci mettono la loro perseveranza, la loro forza, la loro onestà, la loro tenacia. E in un momento difficile, tra l'altro, come questo pandemico, l'augurio particolare va anche a tutte quelle donne che subiscono violenze, perché ce ne sono tante, purtroppo, esacerbate da questo momento di vicinanza forzata e che quindi, ecco, in questa giornata io voglio essere vicino con il mio pensiero e con l'augurio soprattutto a queste donne che soffrono, augurando che questa primavera imminente possa essere una primavera per tutte loro, anche dal punto di vista di una nuova vita, di una nuova energia, di una rinascita vera e propria.